questa è new london tutti sono felici qui ognuno ha il suo posto niente fame niente violenza benvenuti nelle riserve di salvaggi non esiste dolore legion sono tutti accettati nessuno ha mai da solo l'ho sempre voluto per te e adesso è casa tua impara ad abbracciare questo posto sarà meraviglioso non sono mai stata sola siamo tutti connessi non vi stancate lui ha bisogno di te qualcuno che lo guidi che lo inserisca nel corpo sociale imparerai a pensarla come noi nulla ti apparirà più nello stesso modo è vero che conosci quel selvaggio voi non sapete quanto siate fortunati la vita di tutti è perfetta non è reale che cosa ogni cosa che sta succedendo se smettete di prenderle potreste scoprire delle emozioni dobbiamo fermare il selvaggio prima che vada oltre quello che ti hanno fatto è inqualificabile quello che ti faranno non lo immagini nemmeno noi ci moriremo qui se non sei felice non sei niente ciao ragazzi curiosità del giorno la nasa mostra armageddon nel suo programma manageriale e poi assegna ai manager il compito di trovare in questa pellicola degli errori e finora ne sono stati trovati ben 168 lo sapevate qual è il vostro film di fantascienza preferito quello che proprio amate di più scrivetemelo qui sotto nei commenti e io vi ricordo che ci potete trovare anche su tik tok trovate il link qui sotto nell'info box ciao ciao